Cristian Montogli, una partnership importante tra Globo e Blue Volley Verona, perché? Perché principalmente i valori sono condivisi, le famiglie sono presenti qui alla GSM Forum e con Blue Volley abbiamo subito trovato una grande sinergia. 35 anni di storia, la vostra azienda, numeri importanti, una crescita condivisa anche con Blue Volley che è sempre più ambiziosa. Sì, abbiamo sposato questo progetto che riguarda tutto il mondo delle famiglie e una sana collaborazione con una grande realtà veronese.